Tutti arruolabili e pronti per provare a fermare il blasonato Avellino. La missione del Trastevere già d'inizio settimana è stata messa nero su bianco. Gli uomini di Perrotti hanno in testa una sola idea, quella di battere i lupi e mettere un'altra medaglia di una stagione da incorniciare. Tenterà di farlo con il pubblico delle grandi occasioni, per cui il primo nodo da sciogliere è quello legato alla capienza dello stadio. Il match si giocherà di domenica con un clima che si presume primaverile, per cui saranno tantissimi gli appassionati che da Avellino raggiungeranno la capitale per assistere ad una giornata di sport, godendosi anche una gita fuori porta. Il problema è il seguente. L'impianto può contenere circa 1.050 posti, 900 dei quali della tribuna centrale dedicati ai locali, 150 agli ospiti. La società in collaborazione con la Questura sta provando ad allargare la capienza per gli avellinesi, ma al momento si può poco. La vendita dei biglietti comincerà alle 12 di domenica, tanto per i locali quanto per gli ospiti. Il rischio è che si crei un po' di confusione prima dell'ingresso allo stadio, con lavoro extra per Stuart e forze dell'ordine. Per quanto riguarda il campo, il discorso è piuttosto pratico. Il tecnico dei Capitolini lo ha detto a chiare lettere al termine della sfida vinta contro la Nagni. Se il Lanusei continua a vincere il primo posto, è una chimera, per cui è meglio provare a fare il massimo e vedere dove si arriva a fine stagione. Importanti i numeri del Trastevere, che ha agguantato ben 21 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, 68 i punti fatti con 65 reti messi a segno e 32 incassate. Numeri da record per un club che provava a sgambettare una grande e mettere l'accento ad una stagione che è già da ricordare.